Ben ritrovati a TG Plus Speciale Elezioni. Adesso andiamo a conoscere i candidati di un altro comune che domenica andrà al voto. Stiamo parlando del comune di Vedelago dove c'è stato uno strappo a livello politico, c'è stato uno frazionamento politico e i candidati sono così diventati 4. Oggi ne abbiamo due ma dobbiamo dirlo naturalmente anche per rispetto della par condicio che sono stati invitati gli altri candidati. Non sono venuti Fiorenza, Morao e Renzo Franco che rappresentano rispettivamente delle liste di centrosinistra e sono qui invece i candidati delle liste di centrodestra che si sono un po' divisi. Quello che ha mantenuto le coalizioni conosciute è Giuseppe Romano che abbiamo qui, buongiorno. E poi c'è Marco Perin invece che ha delle liste civiche con coalizioni di centrodestra. Andiamo a sentire, buongiorno a tutti e due, andiamo a sentire adesso di che cosa andremo a parlare e come si svolge la campagna elettorale di Vedelago. Diciamo che ci sono due punti critici in questa città. Comincerei da Giuseppe Romano sulla questione che riguarda, sappiamo che lì a Vedelago avete le cave, avete le cave che creano dei grossi problemi e vanno sistemate, è una faccenda che va sistemata e poi c'è anche un grosso problema di viabilità. Ci parli di questi due, voi come avete intenzione di gestire questi due punti dei programmi elettorali? Guardi, la questione delle cave è una questione che si trascina credo da 50 anni. Credo che sia arrivato il momento di poter porre delle regole e capire se c'è la possibilità di incrociare la voglia di dare una risposta a questo territorio. Per parte di soluzione del problema c'è ad esempio un piano ambientale che è praticamente una proposta da circa 20 anni che è lì, a cui bisogna dare una risposta. Credo che da lì si possa partire per dare una risposta concreta, per trovare soluzioni ambientali anche di traffico che danno quelle risposte che il cittadino di Vedelago attende rispetto a 50 anni. Non sarà la risoluzione completa di tutti i problemi delle cave rispetto a Vedelago, ma iniziare da qualche parte credo che sia importante. Credo sia importante perché da lì può nascere la prima proposta per la soluzione del traffico. Noi comunque abbiamo sentito anche un po' di domande dei cittadini. A Marco Perin naturalmente rivolgiamo la stessa questione, cave e viabilità. A Vedelago che cosa bisogna fare? Per quanto riguarda le cave, noi abbiamo una situazione che è compromessa in virtù di una norma, la 44-82, che consentiva l'escavazione del territorio agricolo fino al 3%. Queste cave oggi sono autorizzate con un'autorizzazione del 2000, avevano una durata di 20 anni, è stata poi prorogata e la norma prevede che ci sia la possibilità di una sola proroga per la metà dell'autorizzazione esistente. Quindi nel 2030 le cave in centro di Vedelago termineranno di esistere. Bisogna pensare però alla riqualificazione che è la cosa più importante. Io da 5 anni assessore all'ambiente ho lavorato in un progetto, hanno già presentato i cavatori in accordo con l'amministrazione comunale, un accordo pubblico privato ex articolo 7 della legge 11. L'accordo prevede una vera riqualificazione di questo ambito che porterà delle strutture sportive a livello provinciale e risolverà anche il problema della viabilità. Bene, come avete sentito entrambi i candidati vengono da un'esperienza politica precedente, chi ha fatto l'assessore, chi ha fatto il consigliere, poi adesso naturalmente a mettersi a fare il sindaco sarà tutta un'altra storia. Ma lo chiediamo a Giuseppe Romano che è appoggiato dalle coalizioni conosciute di centrodestra, la Lega per esempio, anche Fratelli d'Italia. Che cosa farebbe lei nel momento in cui si dovesse trovare a fare il sindaco, nei primi 100 giorni di mandato? Bene, nei primi 100 giorni di mandato la prima cosa che andrei a prendere in mano è sicuramente il piano di interventi che deve essere portato a compimento. La gente di L'Agua aspetta da diverso tempo la risoluzione di questo problema per cui quello sicuramente è un problema. Poi c'è da rimpeguare una serie di capitoli di bilancio perché è evidente che le ristrettenze di questo periodo dal punto di vista di bilancio andranno ricoperte con l'avanzo di amministrazione. Ma tre le cose che andremo sicuramente a prendere per primo in mano è appunto questo piano degli interventi, il piano ambientale che ha necessità di essere verificato e condiviso con la cittadinanza. Rivederà. Bene, la stessa domanda la facciamo anche a Marco Perin. Ci sono i primi 100 giorni di mandato che sono molto sensibili, molto importanti per chi diventa sindaco. Se dovesse capitare a lei che cosa farebbe? Beh guardi, il piano degli interventi l'abbiamo adottato noi in Consiglio Comunale e sicuramente ci prendiamo l'impegno di adottarlo nei primi 100 giorni. Oltre a questo, siccome abbiamo ricevuto quasi 12 milioni di fondi PNRR, poseremo la prima pietra nella pista ciclabile lungo via Spada, lungo via Nazionale, lungo via Castellana e la prima pietra della scuola Polo di Infanzia a Barcon che prevede appunto una scuola di infanzia e un asilo nido e di un altro asilo nido a Casacorna. Bene, Marco Perin, Giuseppe Romano, Fiorenza Morao, Renzo Franco sono quelli che si candidano i quattro candidati alla carica di sindaco per il comune di Vedelago. Importante invece ripetere che due di questi sono stati invitati ma non sono venuti, ne abbiamo comunque due che adesso daranno un buon motivo per andare a votare per loro. Sentiamo quali sono un appello al voto di 30 secondi, Romano. Ma intanto credo sia opportuno dire che la democrazia si svolge in questo momento, quindi è democratico andare a votare, l'evito che faccio a tutti è di andare a votare, votate correttamente, è un diritto o dovere quindi facciamolo. Poi evidentemente se votate per noi va molto meglio, ma l'importante è andare a votare. Invece Perin? Guardi, io penso che in qualsiasi lavoro ma anche in politica bisogna seguire un percorso che ti porti a una formazione per affrontare al meglio il ruolo che andrai a svolgere. Io da 24 anni consecutivi che faccio l'amministratore a Vedelago, da 14 anni sono il vice sindaco, ho fatto l'assessore all'ambiente, i lavori pubblici, il bilancio, al personale e al patrimonio. Però ci dica il perché, perché uno deve votare per voi? Perché ho le competenze per svolgere questo ruolo al meglio. Ok, allora abbiamo sentito i candidati, due dei candidati che domenica andranno lì e si metteranno ad aspettare il risultato dell'inizio della settimana. In bocca al lupo a tutti, grazie per essere stati con noi e anche con Vedelago noi abbiamo dato la nostra fetta per quanto riguarda TG Plus Speciale Elezioni. Buona giornata. Grazie a tutti.